Non edizione del torneo Liga Actea, Actea League, partita fra Golbet e Panini Ria Sanzio, finita 5-3. Abbiamo qua l'uomo nuovo team, Rugget, purtroppo oggi è andata male, ma nella sfortuna forse questa sconfitta è pieggiovata, chiunque troverete in semifinale tra Ingonita e io e Rugget, trovate le squadre meno quotate che Ingonita. Guarda, questo noi non lo guardiamo, due squadre che arrivano in semifinale, penso che siano sullo stesso livello. Non sempre le partite vengono le squadre più forti, magari ci sono altre caratteristiche che si mettono in campo, che ti possono dare a vincere la partita, quindi o Orange o Ingonita per me è la stessa cosa. Oggi ci tenevate più che altro a vincere questa partita che è stata per il primo posto del giro, ma più che altro perché può essere una ipotetica finale all'inizio del torneo. Sì, può essere anche come dici tu, però noi abbiamo cercato di fare la nostra partita perché partite non penso che si scendano in campo per perdere, cerchiamo di vingerle tutte, oggi non ci è riuscito, ritenderemo la prossima volta. Quindi è la prossima partita, quindi contro Ingonita, in Boccoluo per il proseguo del torneo, allora speriamo che forse di vincere, perché comunque siete la squadra che a mio parere, a parere anche dell'altro giornalista, gioca meglio il calcio, oggi purtroppo questo calcio non è bastato a giocare bene il calcio, perché comunque il calcio è fatto anche i ricolli e forzino avanti, avete peccato, no, avete trovato un grande portiere davanti. Comunque intanto crepe il lupo e poi un complimento anche al portiere che ha fatto delle belle parate, un po' la sfortuna, qualche bado, poi un po' alla fine abbiamo mollato, un po' dare male, un po' anche il caldo ecco, va bene, grazie, ciao. Grazie a tutti.